Dopo l'esposta alla procura i commercianti di Corso San Giorgio tornano alla carica sul blocco lavori e si giocano la carta del governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso scrivendo una lettera aperta e denunciando la calamità non naturale come dicono loro che li ha colpiti e chiedendo aiuto anche al ministro Franceschini per indurre la soprintendenza archeologica a rimuovere la situazione di stallo. L'attuale situazione logistica negativa creata si impedisce quasi totalmente il passaggio e il passeggio pedonale si legge nella nota per non parlare del totale oscuramento e copertura delle attività commerciali in loco determinate dalle impattanti recensioni di sicurezza. In questi nove mesi trascorsi dall'inizio dei lavori le attività di Corso San Giorgio hanno sostanzialmente dimezzato il fatturato e tutte le altre dell'area urbana lo hanno fortemente ridotto. Causa gli incendi mancati in Troiti molte attività rischiano la bancarotta e il fallimento. L'amorosità degli affitti ha raggiunto livelli preoccupanti nonostante alcuni proprietari di immobili valutando la situazione di propria iniziativa hanno ridotto l'importo mensile. Molte attività che hanno dipendenti anche a decine, essendo in centro storico diffusa la media distribuzione, hanno esaurito le risorse per far fronte agli oneri sociali, agli stipendi, alle utenze e alle periodiche scadenze con istituti di credito e fornitori. Siamo ormai esasperati all'agonia al pari di chi ha subito una calamità naturale, scrivono ancora i commercianti al governatore. Con la differenza che al momento non vi sono vittime umane e che la calamità l'ha creata la burocrazia e l'indolenza di dirigenti e funzionari pubblici. Allo stato delle cose ci permettiamo di suggerire un intervento di concerto con il ministro dei beni culturali Franceschini, nei confronti della soprintendenza archeologica abruzzese, al fine di sbloccare la situazione di stallo creatasi. Se essa si protarrà ulteriormente porterà sicuramente alla morte economica, commerciale e sociale di tutto il centro storico della città di Teramo, con conseguenze negative, occupazionali e sociali inimmaginabili.